Sempre con Rottivitalia, stasera qui incontriamo il regista, il protagonista di Napoleone, quindi Darvisio Alessandro con Danilo Rovani. Un corto che insomma verrà trasmesso a breve, che è in visione. Raccontiamolo brevemente senza svelare il tutto perché poi se lo dovremo vedere. Sì, è chiaro. In effetti Napoleone è la voglia di unire l'action americano un po' con la commedia napoletana. Quindi ci sono questi momenti di forte, di queste scene insomma d'azione, un po' come tutti i surrogati polizieschi che fa sempre piacere, al pubblico piace sempre. Un po' diciamo con la commedia napoletana. Diciamo il punto forte, il cavallo di battaglia di questa serie è il fatto che il protagonista, che è lui, questo Napoleone, questo poliziotto un po' fuori dagli schemi, che diciamo in ogni operazione lui ha sempre la capacità di cambiare dal dialetto, travestirsi e infiltrarsi, diciamo in ogni contesto criminale. Il tuo personaggio. Mi hai detto, voglio sapere come si chiama. Napoleone. Esposito Napoleone. Quindi già detto il nome è già al programma. Sì, esattamente. Napoleone è un ex scugnizzo, cresciuto per le strade di Napoli. Un figlio del popolo. Sì, un figlio del popolo, con la battuta sempre pronta, amante delle belle donne, del buon cibo napoletano, del sole, del mare, di tutto quello che riguarda Napoli. Infatti lui è un fanatico della sua città e gli piace avere proprio sempre questa battuta pronta in napoletano, sempre avere questa capacità napoletana di ironizzare su tutto. Però è anche un poliziotto pronto, uno di quelli in grado di far fronte alle situazioni da solo. Poi abbiamo cercato la peculiarità che fosse quella del travestimento, del camuffamento. All'interno di ogni puntata, quando riusciremo a realizzare tutta la stagione, lui cambierà ogni volta personaggio, si infiltrerà in contesti criminali e qualche volta c'è il siceleano, qualche volta romanesco, poi dipende a seconda di quello che capiterà. Cioè da buon napoletano si adatta? Si adatta a tutto, Napoletano è proprio questo, cioè proprio è Napolione, è Nulione e quindi farà cose turche all'interno delle storie. Da buon napoletano. Da buon napoletano. Che cosa significa oggi proporre un prodotto del genere in una condizione insomma dove tra cinema e teatro insomma siamo un po' in difficoltà? Certo, noi infatti stasera, io colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori di questo splendido festival perché il web è la nuova frontiera, perché fino a qualche anno fa riuscire a ottenere la produzione di un prodotto diciamo lo scoglio da superare era sempre il network, la diffusione. Dici io realizzo una cosa e poi non so come ottenere una mia fetta di pubblico, come far notare la mia arte. Oggi il web è questa nuova meravigliosa frontiera che ti permette di abbattere i costi di diffusione e di dare la possibilità a tutti, diciamo è una nuova forma di democraticizzazione dell'arte così come è avvenuto qualche tempo fa per la musica, sta avvenendo anche per il cinema e per il teatro. Quindi sul web Napoleone di Alessandro Dervisio, perdonatemi, e con l'interprete Danilo Rovani che sarà il commissario Napoleone. Incontriamo Ugo Autori, ufficio stampa dell'evento Web Serious Festival, stasera qui. E' un momento particolare, importante perché il web dà la possibilità ai giovani registi con la rappresentazione di questi corti di scavalcare quelle che sono le problematiche oggi del cinema all'interno delle sale. Della distribuzione? Soprattutto. Della distribuzione che è stato sempre un handicap del cinema, a volte anche di qualità, perché ci sono tante produzioni che potrebbero essere rappresentate al cinema che vengono invece a rimanere nel cassetto, nei famosi cassetti. Diciamo che il web sta dando veramente questa grossa svolta e l'intuito di Palo Guitto, che è l'indicatore della manifestazione, è stato proprio quello di portare, anzitutto nella nostra terra, i campi freghei, come avete potuto vedere, abbiamo una location che batte Venezia, che batte Roma, che batte Tormina, diciamo che Tormina anche lì ci sono delle belle location. Comunque, ritorniamo in una terra dei campi freghei, che è stata anche poi natale della famosa Sofia Loren, che ha rappresentato tanto nel mondo del cinema. Diciamo che il campi freghei vogliono essere anche un traino per questo nuovo sistema, questa nuova globalizzazione del cinema e soprattutto di supporto a tanti giovani che veramente stanno prendendo questa realtà sul serio. Io non mi aspettavo, ho avuto modo di scoprire in questi due mesi di lavoro, che ci sono tanti ragazzi che veramente stanno affrontando dei bei percorsi con queste web series. Infatti, proprio era la domanda, un po' mi ha anticipato, che ti volevo fare, la risposta dei giovani, cioè proprio le esigenze di chi decide di fare un tipo di lavoro. Infatti questo campi freghei web series fest presenta delle produzioni che sono fatte da Colossi, ma anche da tanti produttori indipendenti che stanno dando veramente un valore aggiunto alla cremesse tutta. Poi, che dire, abbiamo veramente una giuria, secondo me, di qualità per un web fest alla prima edizione, perché abbiamo Francesco Pinto, che è il direttore della RAI di Napoli, abbiamo Mirko Garrone, che è un David Donatello per la colonna sonora Mio fratello è figlio unico, abbiamo Valero Caprara, che oramai è uno dei critici più affermati in Italia, oltre che un responsabile della Film Commission Campania. Abbiamo avuto anche una lettera gradita dal cardinale Crescenzo Sepe, che ha appoggiato sin dall'inizio questa manifestazione. e niente, tante e tante e tante altre presenze di rilievo. Che dire, avremo tre giorni per conoscere meglio, avremo tre giorni per conoscere meglio tutte le fasi del festival. Specifichiamo esattamente, siamo al Fusaro. Al Fusaro, la Casina Mambitelliana, e mercoledì sera ci sarà il Gran Galà di chiusura, e vi invito veramente a non perderlo, perché ci saranno degli effetti, una scenografia naturale che è quella della Casina, che è veramente da non perdere. Allora, invitiamo tutti quanti, giovani e meno giovani, a raggiungerci qui, perché saranno tre giorni veramente molto intensi, ma molto importanti, soprattutto di conoscenza per quello che è il mondo del web, noto, sì conosciuto, però visto dal cinema, da chi fa regia, è un prospetto diverso. Quindi vi invitiamo tutti quanti qui. Anzi, l'ultima cosa, vorrei ringraziare Rodo TV, perché essendo una web tv, logicamente era enorme, ma comunque una che ha creduto in questo festival dall'inizio e siamo contenti di avervi qui con noi. Grazie a te, buon lavoro. Grazie.